La casa completamente allagata, la situazione è endemica, cioè si deve trovare comunque una soluzione per cui questo nostro terreno non diventi in realtà un vaso dove si radunano tutte quante le acque. Il maltempo che recentemente si è abbattuto nelle Marche è stato breve ma ha lasciato il segno. I più colpiti sono loro, alcuni cittadini pesaresi che risiedono nella zona vicino al fiume Foglia. La forte pioggia che si è abbattuta nel territorio tra Pesaro e Fano ha portato inoltre all'esondazione del fiume e fango in alcune abitazioni e strade. È già la terza volta quest'anno che c'è un'esondazione della parte dei fossi che raccolgono l'acqua di case bruciate. Esondano tutti i fossi che raccolgono l'acqua a monte del vivaio. Noi abbiamo avuto un allagamento di tutto il vivaio, dell'SR. E laggiù hanno fatto la balza, non hanno messo un tubo del 200 per scollare l'acqua. L'acqua che trabocca dal fosso qua va a finire nell'argine lì e dopo riempie. L'acqua purtroppo non possiamo fermarla perché è una cosa divina, perciò arriva e bene. L'unica cosa è che sono stati fatti dei bacini di contenimento e il nostro terreno, specialmente il nostro, essendo l'allagamento più basso, ha comunato l'acqua. A causa di allagamenti è stato anche chiuso per diverse ore nella prima mattinata il casello autostradale di Pesaro. Stamattina io aspettavo la mia collega che viene da Fano e all'ingresso dell'autostrada lei non si è trovata, cioè anzi c'era l'insegna spenta addirittura, quindi nessun avviso di un casello chiuso per l'uscita a Pesaro. Lei ha preso l'autostrada e niente, è dovuta uscire, andare fino a Cattolica e uscire a Cattolica e poi rivenire a Pesaro. Infatti abbiamo avuto anche problemi perché lei mi veniva a dare una mano qui al bar e lei ha dovuto pagare di più nel casello, in più spese per la benzina e ha sprecato anche il tempo. Problemi anche per le zone interne. Ci sono comuni che hanno dovuto evacuare famiglie per metterle in sicurezza. Abbiamo dovuto evacuare una famiglia da un fosso che ha portato tutta l'acqua con la casa quasi sopra, l'abbiamo ricoverata la famiglia nell'ufficio del sindaco La Morciola, abbiamo avuto 3-4 strade chiuse. Valle Foglie è tutto sotto controllo, la famiglia che era evacuata e che abbiamo ospitato nell'ufficio del sindaco La Morciola è ritornata nella propria abitazione. Nel comune di Fano invece il maltempo è interessato principalmente la costa. Le scogliere sono soffolte, probabilmente non funzionano. Ci aspettiamo adesso che la regione Marche possa mettere mano da prima a un piccolo, se possibile, storno o comunque ristoro per quanto riguarda le concessioni dei maniali. E poi ci aspettiamo che vengano fatti dei progetti insieme al comune di Fano ovviamente, che servono per mettere in sicurezza quella parte maggiormente rispetto alle altre. Anche quando le scogliere c'erano, devo dire la verità, il mare era talmente forte che abbiamo dovuto chiudere le strade al passaggio delle auto perché era pericolosissimo.